La scuola Ti iscriva a quella scuola Puoi tenerteli, l'iscrizione è gratuita Che cosa fa tuo padre? Mio padre non sta bene, il mio è in prigione Il tuo? È morto State dritti Perché avete scavalcato il cancello? Se vi farete scoprire, saranno guai seri Bravo, è colpa tua! Cosa? Ehi, tu! Vieni Hai un'idea di quello che stai facendo? Non ci sono scuse, dovreste vergognarvi, lo sapete? Correte, correte! Sta a passare, va presto! Ciao!